bravo pesi va bene cerca di chiuderla via senza fermare il più possibile chiudi già qua sei quasi giusto se tu la vai a chiudere ti chiude via dietro giusto ributtare davanti là prova prova ad andare avanti un pelino e chiuderla vedi che ti si chiude sotto peso bravo bravo arriva fino a lì gioco devi chiudere tutto metti avanti ancora un pezzo adesso tirala un pochino e buttala là allora un piede e la sposti metti un piede solo e la sposti adesso carica bene il peso e vai via non fermarti più eh non fermarti più non fermarti più e i pesi dai 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 che vi gasate dopo salire io l'ho già fatta in terza bravo mi sono fermato qua sto qua a prenderlo forte 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 ma potente già da sotto sai cos'è il problema che c'hai là che devi fare una mezza più forte ancora fa niente fa niente ci sente vai giù là in fondo ancora e riparti riprovala se riesco a scendere volentieri tira un po' la frizione magari tira la frizione no eh frizione fai solo questo ma prepotente eh devi partire prepotente già dalla curva figa che moto ma la prima che comunque non è bellina perché lui fa la chicane in mezzo ai due alberi puoi stare attento a questo sasso e prenderla piena qua devi partire a manettone ma perché io al campetto mi rompo le palle dopo 15 minuti ma va perché abbiamo un'altra indole noi sì eh tutti ci rompiamo le palle al campetto dopo 5 minuti per quanto mi mette di buona per quanto faccio training autogeno la mattina il campetto è bello il campetto ti rende felice che cazzo eh ecco via da lì via 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 fa po' dentro vai preghilo lele sei quasi come me a prenderle per se eh no cazzo lele ma mi ha mancato 10 centime perché lui ti ha preso ti rimane e poi hai detto no ce la fa ce la fa ce la fa e ti ha lasciato devi aprire quando hai finito la chicane apri tutto e vieni su non aver paura che non si alza in piedi stamattina prepotenza subito dai che c'è le forcelle nuove dai che c'è venuto giù anche il sasso su forcelle nuove va belle rigate dai forza ma gasa però eh gasa forte gasa e no non ci arriva però e guarda non è così cioè non è il montese che dopo la metà ti recupera un pochino ma se appena la perdi basta quindi devi dargli tutto là in fondo qua devi avere sul lanciato che gli dai l'ultimo colpo che ti scappa fuori adesso vediamo Stefano no ma Stefano l'ha già fatta e allora se la fa Stefano si fa si 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 ma infatti io l'ho fatta ti sono toccato quasi il va però eh è toccata davvero perché sono lontano sono andato nel fiume voleva già lavare la moto guarda come è calda oh l'uscita da qui eh basta rinuncio no no adesso la fa ciao Paolo ciao Paolo aspetta troppo figa oh apri ma qui da la seconda apri terza e apri secco devi paginare un po' prima giù faigli vedere Lele dai su faigli vedere come si cade dai ma che cade se lo Stefano sta andando giù sei minuti di video cazzarola e un minuto e mezzo di ripresa perché non c'è mai nessuno Stefano arriva giù va nell'acqua ancora no no stavolta frenato gasa lì oh quando apri le pedane però devi stare su sulle pedane quando gasi devi stare in piedi sulla moto però eh non lasciate andare da sola cazzo ma è così difficile Frank vai a provare la testa perché la fanno saltare esatto perdono la testa